Anche se la prossima stagione non giocherà la Champions League, il prestigio del Manchester United non è affatto diminuito. Mu rimane una destinazione attraente per i giocatori di punta nel mercato dei trasferimenti estivi 2024. Uno dei giocatori che secondo quanto riferito sta dando priorità al passaggio alla muela stella della Juventus Federico Chiesa. Questo esterno infatti è nella lista delle cessioni della Juventus nell'estate 2024 perché non rientra nei piani del nuovo allenatore Tiago Motta. La Juve vuole lasciare andare l'ex giocatore della Fiorentina anche perché il suo contratto scadrà a giugno del prossimo anno. La Juve non vuole perdere Chiesa gratis come accadde a Paolo Di Vala l'anno scorso. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport di fine luglio 2024, Chiesa ha già deciso in quale club vuole andare la prossima stagione. Preferirebbe difendere il muo rispetto ad altri club come Roma o Liverpool. Chiesa non ha problemi con il fatto che il muo non giocherà in Champions League e giocherà solo in Europa League la prossima stagione. Muo rimane la sua prima scelta se lascerà la Juventus la prossima stagione. La muo infatti era interessata a Chiesa. I Red Devils avranno bisogno dell'energia di Federico Chiesa per diventare un rivale di Marcus Rashford o Anthony, le cui prestazioni la scorsa stagione sono state molto deludenti. Anche il prezzo di Chiesa rientra ancora nel budget di trasferimento del muo. La Juventus non ha venduto Chiesa a un prezzo troppo alto. La vecchia signora sarebbe disposta a lasciare andare Chiesa se un club fosse disposto a pagargli 30 milioni di euro. Il prezzo di Chiesa soddisfa i criteri di Sir Jim Ratcliffe. I nuovi investitori della muo vogliono reclutare nuovi giocatori che siano economici ma di qualità e possano migliorare le prestazioni della squadra. Ratcliffe dà priorità ai giocatori liberi o a quelli cui i contratti stanno per scadere. Finora il muo ha ingaggiato solo due nuovi giocatori, vale a dire l'attaccante del Bologna Joshua Zirksi e il difensore centrale Leni Oro del Lille. I Red Devils introdurranno comunque tre o quattro nuovi giocatori nel resto del mercato estivo 2024. Per la prima linea c'è la possibilità di reclutare un altro giocatore. Chiesa ha anche un altro vantaggio perché può essere utilizzato come centravanti, come ha fatto con la nazionale italiana.